Buono il controllo di Hernandez, il cross verso Rooney e c'è il pareggio dello United dal decimo minuto del secondo tempo. Un grande gol di Wayne Rooney su un cross perfetto del Cicciarito Hernandez. Improvvisa di partenza dello United, il cross perfetto da parte di Hernandez e poi il tocco da campione di Rooney sul secondo palo a prendere in contropiede Mignolet. 1-1 nella finale dell'International Champions Cup. Partita che non sta assolutamente tradendo le attese. Probabilmente ora diventerà ancora più divertente dopo l'1-1 di Wayne Rooney. Al decimo di Rooney, il decimo del secondo tempo è Mata, al dodicesimo per il 2-1. Palla non è buona. Ha colpito il sostegno della porta, invece sì, c'è il gol di Rooney. Gol considerato valido, ma secondo me la palla ha colpito il sostegno della rete, non la traversa. Rooney e Kelly andiamo a rivedere. Forse invece colpisce la traversa, il rimbalzo però è assolutamente particolare. Gol di Rooney dunque. Qua si vede meglio. La palla è fuori, chiaramente. Considerato valido da parte dell'arbitro. Sorride anche Rooney. Sa benissimo di aver approfittato di questo errore dell'arbitro. Ma attenzione, fortunatamente. Arbitro e guardaline. Sono entrato nella storia, dalla parte sbagliata. Grazie. Grazie.